E volevo salutare invece una mamma, una mamma che si trova insieme a Edoardo Lucarelli. Edoardo siamo in diretta con te, chiaramente una storia che poi vorrei raccontare con un po' più di tempo perché oggi ci siamo occupati di storie di guerra come ben sapete, però ecco anche la guerra che c'è tra le pareti domestiche e la violenza contro le donne è una terribile guerra. A te Edoardo. E' detto bene, una guerra tra le pareti domestiche, quella che ha dovuto fare il suo malgrado Laura che è qui accanto a me, insieme alla sua avvocatessa Nadia Calafato. Perché? Perché da quando si sono sposati nell'88 questo uomo, suo marito, piano piano, giorno dopo giorno ha maturato una rabbia, una violenza nei suoi confronti che poi è sfociata in questo terribile fatto di cronaca, ma davvero è stata una sofferenza indicibile. Fino al gennaio del 2020, Laura, quando tu che cosa decidi di fare? Mio figlio mi ha portato via di casa e dopo una notte che lui era a festeggiare con gli amici ha fatto cento chilometri per venire in mia difesa con la sua fidanzata. Suo marito era violento, ti maltrattava? Mi maltrattava, mi toglieva la libertà di respirare, mi ero controllata, mi minacciava con la pistola, minacce continue, verbali, quella tensione continua e mi tagliava proprio la mia libertà, la normalità della vita e mi controllava anche con i registratori in casa, in macchina. Ero ossessivo, ma questo per motivi di che cosa? Di gelosia? Gelosia, possessione, per lui ero, dovevo essere la donna in casa con la pagnotta calda nel forno e sempre pronta ai suoi orari di quando entrava e usciva come voleva lui. Quindi tu arrivi? Una persona io, un oggetto, un oggetto che doveva tenere in piedi questa famiglia agli occhi degli altri e lui era forte tenendo la moglie così. Cosa succede ad un certo punto, Edoardo? Il suo equilibrio forse era. E a un certo punto tu decidi, alla fine sfinita, di denunciare? Sì, dopo violenze, dopo sempre paura di morire. Guarda i miei figli dormire e dicevo lì vedrò crescere. E dopo minacce, minacce verbali, pesanti. Era andato fuori di testa e quella mattina sono andata al pronto soccorso, poi in postura a denunciarlo e da lì al centro Mascherona. E purtroppo i figli, Edoardo ti chiedo aiutami perché abbiamo veramente pochi minuti. Poi casomene, anzi la rinvito questa mamma. Ecco, purtroppo che cos'è il successo? Che i figli... Succede tutto nel giro di poche settimane perché si rivolge al centro, dopodiché c'è un'ulteriore denuncia, il centro comincia a seguirla. Lei prova ad andare da alcune amiche, quattro domicili ha dovuto cambiare perché ogni volta lui pedinava, pedinava le amiche, continuava a minacciare e il centro riesce anche a spostarla fuori regione, in Sardegna. Però dopo che cosa accade quel maledetto 10 di agosto, avvocato? Accade che questo uomo, sempre più alla ricerca della moglie e soprattutto avvicinandosi il processo che lo vedeva coinvolto per il reato di maltrattamenti, ha iniziato a pressare molto uno dei due figli per ottenere che andasse in questura a modificare la sua deposizione che lo inchiodava un po' rispetto alle sue responsabilità. Si reca presso i figli, ne nasce una grande discussione e alla fine l'epilogo è noto. Adesso in primo grado sono stati condannati? Sono stati condannati i figli in primo grado? A quanti anni? Allora, rispettivamente a 21 anni il figlio più grande ha 14, il più piccolo. Le motivazioni della sentenza devono essere ancora depositate, saranno depositate nell'arco di tre mesi. Voi appellerete. Io lascerei Eleonora se sei d'accordo, poi ci torniamo, come dicevi, l'ultima parola a Laura. Edoardo, purtroppo io devo chiudere. Chiedo veramente scusa ai nostri ospiti, ma siamo in chiusura di trasmissione. Però chiedo sia a Laura che a Nadia, Nadia Calafato, che è la sua avvocatessa, di ritornare in trasmissione con noi la settimana prossima e poter raccontare questa storia anche in comparazione con l'ultima storia che noi abbiamo letto sui giornali, non so se ve la ricordate, invece di un figlio che per aver ucciso il padre che stava picchiando e voleva ammazzare la mamma, invece è stato assolto. Per cui vi ringrazio.